Ecco, siamo qui con il Presidente Lovera del San Gaetano. Allora Presidente, ultimo secondo fatale. Purtroppo il nostro secondo fatale è la seconda partita che ci va male nei rubri minuti del recupero e abbiamo perso tre punti tra domenica e ora. Noi continuiamo, lottiamo fino alla fine, fino alla matematica non ci condanna. Comunque, a prescindere da matematica, lei pensa che questi tre punti persi oggi, anche se avreste preso uno, comunque il Boalino non sarebbe andato a 24. L'unica differenza, però pensa che questi tre punti siano fondamentali per ormai il San Gaetano nei play-out? I play-out sono sicuro ormai, penso li faremo, non sappiamo con chi li faremo. Però pareggiando oggi tenevamo pure il Boalino sotto e potremmo fare i play-out in casa. Invece continuando così dobbiamo fare i play-out e andare a vincere i play-out. Allora, importantissime, saranno le partite in casa, già da domenica. Sì, già da domenica col palizzo dobbiamo fare i tre punti per continuare a trovare almeno quattro ultimi per fare la partita in casa e giocare i 120 minuti. Qualcuno pareggia.